Grandi disagi nella mattinata di lunedì 12 dicembre causati dal maltempo nel nord Italia. Una tremenda gelata ha colpito tutta la zona nella nottata. Molti gli automobilisti che questa mattina hanno trovato l'auto ricoperta di lastre di ghiaccio e hanno dovuto impiegare molto tempo nelle operazioni di sbrinamento e apertura delle serrature rimaste bloccate. La settimana non è iniziata nel migliore dei modi nemmeno per i molti pendolari a causa di numerosi guasti nella linea ferroviaria. Caos nelle stazioni con disagi provocati dalla formazione di ghiaccio sui binari e da guasti dei treni. Trenitalia ha infatti annunciato difficoltà sulla linea Bologna-Venezia, sulla Verona-Bologna e molti rallentamenti anche in direzione Milano. In alcune linee sono stati registrati rallentamenti anche di un'ora rispetto all'orario previsto.